Nel parco della Murgia Materana sono state avviate le operazioni di installazione delle gabbie per la cattura dei cinghiali. Da alcuni decenni stiamo assistendo alla progressiva e inarrestabile esplosione numerica dei cinghiali e alla dilazione degli areali anche in zone nelle quali la specie non era stata mai avvistata. L'impatto esercitato da questi animali, ha dichiarato il presidente dell'ente Giovanni Mianulli, tanto sulle specie vegetali quanto sulle colture agricole ricadenti nell'area del parco, è aumentato in maniera notevole. Contrastarne l'incremento era ed è una delle numerose priorità del parco, per le quali mi sono da subito impegnato, lavorando all'avviso per selezionare il soggetto che avrebbe curato l'attività di contenimento della specie, gestendo tutte le fasi del processo dalla cattura all'abbattimento. Oggi la società assegnataria del servizio ha avviato un processo che sostiene la realizzazione delle strategie di intervento, anche per l'eradicazione della peste suina africana. L'avvio del servizio è un passaggio fondamentale per un approccio sistemico, utile a ristabilire il necessario equilibrio di specie all'interno del parco e sperimentare così la sostenibilità di una filiera produttiva basata sul cinghiale. Il presidente Mianulli ha sottolineato l'importanza del sostegno dell'assessorato regionale in questo specifico contesto, confermato anche nell'avvio della consigliatura con la nuova assessora Laura Mongello, in una politica di gestione complessiva di un parco, qual è quello della Murgia Materana, con un'area di 8.000 metri molto frammentaria, a ridosso di aree urbane diverse, è ricadente in spazi di proprietà privata e con vocazioni che vanno dalla tutela della biodiversità al patrimonio archeologico, storico e culturale, salvaguardare un approccio multilivello diventa fondamentale. La lungimiranza di non sacrificare un aspetto a beneficio di un altro, magari ritenuto principale, è stato accolto, compreso e sostenuto da chi può materialmente rendere operativo il lavoro del parco. In questi mesi, conclude Mianulli, siamo andati per gradi e l'emergenza dei cinghiali, che rischiava di vanificare qualsiasi altra attività, aveva una priorità condivisa con l'assessorato regionale che ha da subito messo a disposizione collaborazione e strumenti concreti che potessero mettere in condizione di affrontare e risollevare la piaga nota a noi, ma soprattutto alla cittadinanza.